Sì, fondamentalmente era il nostro obiettivo, cercare di mettere una pressione sia al fuggitivo stesso che a tutto il territorio affinché lo stesso si sentisse braccato e quindi senza possibilità di avere movimenti di alcun genere doveva capire che l'unica soluzione era quella di consegnarsi a un certo punto se ovviamente non l'avessimo proprio trovato noi direttamente con alcuni servizi specifici che abbiamo avuto. Noi ovviamente stiamo continuando con i servizi sia preventivi che con l'attività d'indagine proprio perché non succeda più nient'altro. Il messaggio è che comunque un'attività sinergica è riuscita nel giro di una settimana ad assicurare la giustizia responsabile di questo grave atto.